Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua. Allora, stamattina vi raccontavo di un secondo contenuto che voleva essere anche un po' più dettagliato, se vogliamo, ed eccoci qui. È un contenuto nel quale voglio cercare di fare anche un punto della situazione abbastanza importante per quanto riguarda la Juventus e cercare di andare a vivistazionare un po' quella che è stata la stagione. Perché la prima domanda che vi faccio è la seguente. Qual è il vostro criterio per capire se una stagione sta andando bene o sta andando male? Io vi provo a dare la mia risposta, che non è detto che sia quella giusta o che sia quella che rappresenta la realtà, è la mia opinione personale. Io cerco sempre di ritornare al momento in cui la squadra si stava costruendo, quindi la campagna acquisti. E quindi mi domando, la Juventus è soddisfatta di quella che è la stagione sportiva fino a questo punto per quanto aveva lavorato durante la campagna acquisti, per quella che era la squadra che si era immaginata nella campagna acquisti? Si era immaginata di arrivare a marzo in queste condizioni? Per rispondere a questa domanda c'è da fare una premessa, che è sempre quella legata appunto al processo sportivo che è in corso tuttora e non sappiamo dove andrà a parare. Quindi sicuramente si arriva a un certo punto della stagione dove quella sentenza va a complicare terribilmente la stagione della Juventus e va ad aggiungere un grande punto interrogativo che va a mescolare un po' tutte le carte. E quindi dovremmo fare un'analisi praticamente fino a quel momento lì, questa è stata una stagione strana. Oltre a quella roba lì c'è stato anche un mondiale di mezzo che è andato a interrompere il campionato. E quindi per farlo voglio cercare di ragionare un po' insieme a voi perché c'è una prima parte della stagione dove la Juve non va bene, anzi per niente. Arrivati a giocare Monza-Juventus la Juve si ritrova a metà classifica con praticamente una decina di punti a disposizione delle altre che sono già belle e che scappate. E in quel momento lì la Juventus è in crisi profonda e arriva addirittura a non passare, a mettere le basi per non passare il girone di Champions. Ecco io arrivato a quel punto lì ero assolutamente deluso, completamente deluso e non vedevo una luce in fondo al tunnel perché vedevo una squadra completamente scollegata da quello che era il senso di fiducia nei confronti dell'allenatore. Io ho addirittura pensato che i giocatori fossero arrivati a giocare contro l'allenatore perché non vedevo assolutamente niente, né un mordente, né una volontà, niente. Ed è anche da parte dell'allenatore vedevo quella mano che invece in questi momenti dovrebbe servire come dopo una stagione nella quale comunque la Juventus non aveva vinto niente ed è arrivata a quarta. Una posizione di campionato che non deve competere alla Juventus, una Juventus che comunque all'interno della stagione precedente aveva avuto diverse difficoltà a partire dal mercato che non era stato fatto secondo me secondo dei canoni rispettabili. Quest'anno invece secondo me la Juve ha fatto un buon mercato, gli ho dato un buon voto e sono convinto che siano stati aggiunti dei giocatori che hanno migliorato la rosa rispetto all'anno scorso. Poi secondo me si poteva far meglio soprattutto in difesa e si poteva far meglio soprattutto dal punto di vista del ragionare sul lungo perché il mercato di quest'anno della Juve è stato un mercato sulla base di giocatori o con un'età media avanzata o con una condizione fisica precaria. L'unico, anzi gli unici due se vogliamo che sono stati acquistati e sono giocatori ancora di prospettiva, non ancora vecchissimi o comunque ottimi dal punto di vista fisico sono Costice e Bremer perché se penso a Milik, tanti infortuni nel corso degli anni, della carriera e anche ora è fermo per un problema muscolare. Pogba, lo sapevamo, era tanto che non giocava, non era più il Pogba di prima ed è tornato da pochissimo. Di Maria giocatore incredibile e me lo aspettavo esattamente decisivo come lo stiamo vedendo in questa seconda parte dopo una prima parte in cui non mi aveva convinto per niente nel punto di vista dell'attaccamento, nel punto di vista fisico che non mi aveva convinto invece adesso Di Maria a parte queste ultime due partite in cui non è apparso proprio al 100%, sta dimostrando quello che mi immaginavo ma l'età è quella che è. Paredes non ero entusiasta né dall'inizio e non ha fatto niente per farmi cambiare idea, Milik invece ci è riuscito perché non ero contento dell'acquisto di Milik invece eccoci qua e poi dietro non si è fatto praticamente niente se non Gatti che era stato acquistato nella finestra di mercato invernale l'anno prima per cercare di coprire poi la coperta. Mi sono andato a rivedere i video di quest'estate e parlavo di un Kostic tra l'altro come onesto mestierante o addirittura riserva, per quale motivo? Noi c'eravamo immaginati una Juventus con il 4-3-3, acquisti Di Maria, torna a Chiesa allora finché non torna a Chiesa c'è Kostic titolare alto a sinistra del tridente ma Kostic si è rivelato non un'ala e si è rivelato un giocatore indispensabile per poi quello che è stato il cambio di marcia della Juventus perché poi la Juventus si inizia a cambiare marcia quando passa la difesa 3 e quando mette Kostic in quella posizione lì io sono convinto che il cambio di modulo sia stata una delle motivazioni per cui poi la Juventus è riuscita a riprendersi dal punto di vista sportivo è piampanino anche dal punto di vista mentale, da una situazione nella quale secondo me era difficilissimo se non impossibile riprendersi e infatti ne avevamo già parlato comunque anche durante il mondiale, post mondiale la Juventus va a incanalare quella serie di vittorie magari nemmeno pure così convincenti tranne un paio che secondo me erano state giocate bene però inizia a risalire la classifica dopo un'eliminazione in Champions che non si può eliminare, non si può cancellare maggior ragione per come è arrivata, per i pochi punti fatti e per la distanza abissale che si è vista rispetto a Benfica, PSG e dopo una partita di super delusione quasi pari a quella del Monza contro il Maccabi Haifa in trasferta partita veramente ingiustificabile però la Juve post mondiale è lì, è lì che si può giocare delle posizioni e si arriva alla partita delle partite che è Napoli-Juventus quella partita lì poteva cambiare il campionato, quella partita lì poi ci ha dimostrato la superiorità netta del Napoli che sta dominando in lungo e in largo e sta meritando tantissimo questo scudetto quindi è giusto che sia lì e poi arriva la sentenza e secondo me diventa anche un po' complicato parlare di calcio diventa un po' difficile perché poi abbiamo visto risultati altalenanti, cose bizzarre, cose particolari avevo fatto una classifica anche dei gol fatti e gol subiti io mi ero immaginato una Juventus che a fine anno poteva fare 69 gol con 31 subiti in 38 giornate che significa una media ipotetica di 1.8 gol a partita fatti e 0.8 subiti, una roba del genere ad oggi siamo alla giornata 25, la Juve ha fatto 40 gol e ne ha subiti 20 significa una media di 1.6 contro 0.8 subiti quindi siamo perfettamente in media rispetto a quello che mi aspettavo dal punto di vista difensivo siamo un pochino carenti dal punto di vista dello sviluppo quindi secondo me alla Juventus manca qualcosina per arrivare ai numeri che mi ero immaginato quindi mancano 29 gol fatti e 11 gol subiti in 13 partite che significa 2.23 gol fatti e 0.85 gol subiti questo può far riferimento anche al fatto che sono mancati i giocatori sicuramente ma anche al fatto che ora la Juve deve aumentare i giri del motore ieri parlavo di un giro di chiave per cercare di raggiungere quei numeri che secondo me per la rosa disposizione della Juventus sono necessari indubbiamente necessari e allora prima vi dicevo bisogna tornare a questa estate a quella che era la mia idea mi aspettavo di arrivare al 7 di marzo in queste condizioni la risposta è no perché non mi potevo immaginare 15 punti di penalizzazione la Juventus in questo momento comunque sarebbe dietro il Napoli nella bagarre generale della lotta all'Europa però non mi aspettavo non mi aspettavo assolutamente una Juventus così distante perché questa è la mia classifica e prima di tutto tra l'altro questa è presa da un video di Davon dove avevamo analizzato è bene raccontare un po' quelli che erano i miei mood sulle prime 5 posizioni perché è stata fatta questa classifica prima della chiusura del mercato Paredes non era ancora arrivato alla Juventus si mormorava di un arrivo eventualmente di un difensore centrale o di un terzino sinistro cosa che poi non è mai arrivata e il Napoli non aveva ancora firmato Raspadori, Dombele e Simeone ma devo dirvi la verità la mia idea sul Napoli non sarebbe cambiata l'avrei lasciato comunque in quinta posizione anche con quegli acquisti il Napoli era ancora una squadra in costruzione ma mai mi sarei immaginato un Kwaraskega un Kim di questo livello in grado di sostituire non ottimamente di più i vari culibali e insigne Napoli aveva perso dei senatori dei giocatori importanti dal punto di vista tecnico ma anche del dialogo all'interno dello spogliatoio e ha creato un capolavoro davvero mai mi sarei immaginato quindi il Napoli è stata completamente cannata anche se a mercato aperto infatti mi sono andato a vedere anche per curiosità i commenti sotto quel video nessuno parlava di Napoli e Campione d'Italia tranne un utente che era stato sbeffeggiato e aveva messo quinto Milan e quindi Milan-Inter-Juventus Napoli-Inter-Juventus-Roma in Champions col Milan quinto e tutti lo prendevano in giro ma cosa dici? l'ha fatta boccellista classifica ma figurati il Napoli era l'unico che invece aveva probabilmente capito che il Napoli aveva acquistato dei giocatori di talento anche se ripeto secondo me era abbastanza difficile da pronosticare un Napoli di questo tipo anche internamente al Napoli magari non si aspettavano questa roba qui però non mi aspettavo assolutamente una Juve fuori dalla Champions dai gironi una Juventus in Europa League ma soprattutto quella classifica Milan-Inter-Juventus con la Roma che secondo me era la squadra che insieme a Napoli doveva giocarsi l'accesso al quarto posto l'ultimo posto disponibile era una corsa a tre per quanto mi riguarda però scusate io mi aspettavo un triangolo un duello triangolare tra Milan-Inter e Juve cosa che non è stata perché dicevo Juventus e Inter hanno le rose migliori secondo me del campionato in assoluto il Milan non ha la rosa migliore ma le idee e le ha dimostrate anche l'anno scorso al gruppo le idee e ha questa possibilità di replicare quello che aveva già fatto il Milan è entrato in una crisi profonda l'Inter è una squadra altalenante la Juventus è partita male ha messo una pezza per un certo punto del campionato e poi la sentenza secondo me ha annullato completamente quello che può essere qualsiasi discorso sportivo quindi la Juventus io me la immaginavo comunque all'interno della lotta a Scudetto me la immaginavo più in alto a livello di punti conquistati perché non mi aspettavo sinceramente una partenza così a rilento quelle tante difficoltà iniziali e cui problemi sottoporta nel cercare di infilare determinati gol che secondo me mancano all'appello è ovvio che gli infortuni di Pogba così prolungati di Di Maria che nella prima parte di stagione probabilmente davvero pensava tanto al mondiale dello stesso Chiesa che è dovuto rientrare un po' dopo di Vlaovic e di Milic che ogni tanto c'erano ogni tanto non c'erano sicuramente queste sono componenti che sono andate ad influire tantissimo però secondo me la Juve ha una rosa che dovrebbe rendere comunque di più di così poi siamo sempre discorso legato alla sentenza ma davvero non mi viene in mente nessuna parola più adatta rispetto ad annullare quelle che che sono tutti discorsi che si possano fare dal punto di vista sportivo quindi non arriveremo mai ad avere una risposta vera e propria a questa tabella a questa domanda del ti aspettavi questa roba qui però fino a quando ho potuto valutare quella che era la stagione della Juve rimiazzano in Champions pesa e peserà tantissimo sempre nella valutazione che si potrà provare a fare e la partenza a rilento molto a rilento dove ci siamo giocati probabilmente la possibilità di provare seriamente ad avanzare in Coppa dei Campioni la possibilità di rimanere aggrappati a un Napoli che stava scappando io quello faccio un po' fatica a cancellarlo faccio un po' fatica a dimenticarmi con la roba lì quindi non sono nel complesso contento della stagione della Juventus sono decisamente più contento rispetto all'inizio perché pensavo non ci potesse essere altra scelta se non cambiare la guida tecnica in corso sono ancora più convinto arrivati a questo punto e sentendo anche un po' quelli che sono i mormorii che ci fanno intendere i dirigenti della Juventus anche i dirigenti ad interim di questo momento su quello che dovrà essere la Juve del domani quindi una squadra completamente diversa da quella che abbiamo visto durante il percorso sono ancora più convinto che non sarà allegri l'allenatore dell'anno prossimo perché non è il tipo di allenatore giusto per quello che si vuole provare a fare l'anno prossimo sono convinto lo dico per la quarta quinta volta che la giustizia sportiva abbia operato male andando ad annullare qualsiasi prova di ragionamento sportivo sulla stagione della Juventus sono convinto che il tifoso della Juventus oggi sia deluso profondamente deluso sia dal lato sportivo sia dal lato di quello che è accaduto ma comunque speranzoso perché il motto della Juventus relativo alle vittorie non va annullato non va dimenticato una stagione della Juve dove non si lotta per il titolo in Italia non è una stagione da Juventus però abbiamo la possibilità di rifarci tra la Coppa Italia e la Coppa dell'Europa League dove lì non ci sono ancora cose che sono state complicate perché l'avvio no lì si è giocato poi dopo siamo ancora in competizione in corsa per tutte e due c'è un avversario tosto che è il Friburgo c'è un avversario tosto che è l'Inter sono comunque due avversari secondo me che la Juve può frontare tranquillamente liberamente perché abbiamo una grande squadra una grande rosa che siccome può rendere ancora di più e qui la palla passa ad Allegri che per quanto sia difficile nel momento deve comunque cercare di portare a termine una stagione complicata nella quale possiamo davvero avere la possibilità di giocarci altri due trofei per quello che anche l'altro giorno vi dicevo no non credo che arrivare in Champions con dei punti di penalizzazione equivalga a vincere gli scudetti vincere è una cosa a parte e noi possiamo ancora farlo nonostante una stagione che per quanto mi riguarda non sta andando come doveva andare con dei punti di penalizzazione